Simone, l'ultimo allenamento prima della partita di domani a Santo Stefano, come sono andati i ragazzi dopo la scorsa amichevole? I ragazzi stanno bene, hanno recuperato tre giorni e mezzo e devo dire che comunque sono stati attenti perché sono tornati che stavano bene, sia sotto il profilo del peso che dell'intensità perché gli allenamenti di questi due giorni sono stati veramente di alto livello, quindi siamo contenti e prepariamo la partita di domani, si va avanti col percorso. La preparate al solito sistema o pensi che Paolo cambia qualcosa che si possa dire senza dirlo agli avversari? No, tutto solito, le idee sono molto chiare, quindi adesso c'è bisogno di tempo, non bisogna farsi attrarre da valutazioni facili, nel senso che adesso un amichevole ti può far dire delle cose, l'amichevole dopo altre. Si va avanti per la nostra strada, si lavora i dettagli, gli accorgimenti, però la strada è quella. L'ultima domanda che ti faccio, l'umore dei ragazzi com'era martedì quando avete ripreso? Quando abbiamo ripreso? Eh, erano riposati, sereni, poi c'è anche un po' più di fresco, un po' d'acqua, quindi si sta molto meglio. Perfetto, grazie.